Anche in Abruzzo è tornato l'autunno con l'allerta diramata dal Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile con avviso di criticità regionale per oggi e domani. Allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato per le zone costiere e dell'Alto Sangro, in particolare per le province di Teramo, Pescara e Chieti. Nello specifico, dalla mattinata di oggi e fino alle 14 di domani, l'allerta arancione interesserà i bacini del Tordino Vomano, del Pescara, dell'Alto e del Basso Sangro e le restanti zone della regione, in particolare i bacini della Terno e della Marsica, con allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato. I disagi maggiori in mattinata si sono registrati a Pescara. Il sindaco Marco Alessandrini ha aperto il Centro Operativo Comunale e soprattutto ha chiuso in extremis soltanto nella prima mattinata le scuole, provocando numerose polemiche. In questo caso il sindaco si è reso conto evidentemente questa mattina che i livelli erano piuttosto alti e pertanto era meglio che i ragazzi restassero a casa. Certo è accaduto in una fase, in un orario diciamo a ridosso dell'apertura delle scuole, questo non ne poteva essere quantomeno evitato nel senso di anticipare almeno di un'oretta. Però capiamo anche, si lavora in emergenza, anche oggi è lunedì, giornata di rientro dopo l'effesività domenicale. E quindi a questo punto credo che anche gli uffici stessi hanno avuto delle piccole difficoltà. Come ogni volta che piove a Pescara, strade allagate ed enormi disagi alla circolazione stradale. Abbiamo già provveduto con le transennature e stiamo provvedendo anche con la stessa società attiva per la pulizia dei tomini laddove sono otturati con la tanta acqua che ha trasportato con sé detriti, foglie e quant'altro. Quindi stiamo cercando di dare anche una risposta nell'immediatezza.